La lotta libera è uno spettacolo che rispote grandi simpatie tra il pubblico sportivo di Chicago. L'eroe di questa partita è il cosiddetto Uomo Montagna, che fa onore al suo soprannome mettendo rapidamente fuori combattimento il proprio avversario. L'eroe di questa partita è il cosiddetto Uomo Montagna. L'eroe di questa partita è il cosiddetto Uomo Montagna.